Lei è indeciso? Sì. Le prime due dosi le ha fatte? Sì, sì. E perché adesso è indeciso sulla terza? Perché non lo so, mi devono chiamare, non lo so, penso che la farò, però, boh, io dico la verità, io le ho fatte perché mi piace andare all'estero, no? Allora le ho fatte, se no non avrei fatto il vaccino. Quindi non crede tanto nel vaccino? Non lo so, a che credere. Sulla terza dose di vaccino tra i cittadini regna ancora molta confusione e indecisione. C'è chi non vede l'ora di farla e chi invece, pur avendo fatto le prime due, ha ancora dubbi. I marchigiani che hanno ricevuto la terza dose sono, stando ai dati di oggi, oltre 23.000. Di questi 4.622 sono residenti nella provincia di Pesaro e Orbino. In ordine di tempo, i primi a partire sono stati i sanitari delle strutture ospedaliere e non solo, ma gli anziani stanno ancora attendendo. Insomma, si allontani dalle cifre della prima fase della campagna, specialmente per quanto riguarda la popolazione ordinaria, iniziata il 20 febbraio 2020. Ma i centri app delle Marche della provincia d'Orica, a differenza di quello che è accaduto in altre regioni, sono regolarmente attivi e da alcuni giorni hanno ripresa ad ospitare le terze dosi. Il problema ora nasce anche per chi ha fatto soltanto una dose di Johnson & Johnson. Gli immunizzati con questo tipo di vaccino nelle Marche sono quasi 29.000, ma ad oggi non c'è un'indicazione chiara da parte degli organi regionali competenti a sollecitare il richiamo per la seconda dose. Di fatto, questi soggetti non sanno ancora se dovranno riceverla oppure no. Perché è necessario farla, anche la terza dose, come le altre del resto. Lei le prime due le ha fatte? Eh, da adesso, dal febbraio dell'anno scorso. Quindi crede nel vaccino ed è pronta a rifare anche la terza? Certo, perché no? È l'unica difesa, guardi, contro questo virus. Lei la terza dose la farà? No, l'ho fatta, io già. E sono qui vivo in vegeto, nonostante i miei 87 anni, se ci vogliamo salvare tutti è questo. Se invece qualcuno vuole fare lo spiritoso, il virus si arriva anche da loro, solo che si arriva da me. È una lotta alla pari. Da loro invece vince il virus. Il problema è che ho fatto la Johnson. Ancora io non so niente. L'ho fatta a agosto. La devo fare adesso oppure ancora c'è tempo. Quello che lo devono dire loro. Lei ha fatto già le prime due dosi di vaccino? Sì, sì, tutte e due. E adesso la terza, a dicembre o a gennaio, la farò. Quindi crede nel vaccino? Caspita, anche se insomma qualche disturbo l'ha dato, ma relativamente, ecco, un po' di fiacca. Va benissimo, tutto ok. Non vedo l'ora di farla. La terza dose? A me la seconda, sei mesi scadono a gennaio. Appena mi danno la via libera io la faccio la terza dose. Io innanzitutto sono grata a chi l'ha fatto, a tutte le persone che sono vaccinate, perché danno la possibilità anche ai non vaccinati di uscire e di poter essere liberi. Insomma, altrimenti probabilmente in questo momento saremo di nuovo in situazioni di ristrettezza e di privazione di libertà. Se serve la terza dose di vaccino non sono io a poterlo dire perché non sono un medico o scientifico, quindi se ritengono che sia necessario va bene.